Il Paradiso, Stefania potrebbe non partire dopo scontro fra la madre e Veronica. Nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore ci sarà un colpo di scena, Gloria e Veronica si scontreranno. Un personaggio, non ancora rivelato, assisterà alla scena e si preoccuperà per quanto accaduto. Mentre un'altra persona, al momento ignota, si arrabbierà e cambierà i suoi piani. Secondo una teoria Stefania potrebbe venire a sapere della lite fra sua mamma e Zanatta e potrebbe anche decidere di non partire più per gli Stati Uniti, rinunciando a trasferirsi a Washington con Marco. Nel dettaglio, nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore, le acque a casa Colombo non si saranno ancora calmate. Veronica continuerà a essere contraria alla presenza di Gloria nella vita di Ezio e darà un ultimatum al suo compagno. Come prova d'amore la mamma di Gemma vorrà che il suo fidanzato rinunci al denaro di Moro per avviare la sua attività imprenditoriale. A quel punto, il papà di Stefania entrerà in crisi, non sapendo se accettare l'out-out di Veronica o continuare a inseguire i propri sogni. Così Gloria tenterà di mediare e vorrà fare capire a Zanatta che le sue sono buone intenzioni. Senza un secondo fine, sarà così che Moro affronterà Veronica e le due donne discuteranno. Veronica e Gloria avranno un duro scontro. Le anticipazioni delle prossime puntate del Paradiso delle Signore rivelano che Moro troverà un muro di fronte e non avrà possibilità di fare sentire le sue ragioni. Al momento non è chiaro dove si svolgerà la discussione fra le due, ma intanto trapela che qualcuno non ancora rivelato, assisterà alla scena e si preoccuperà, mentre un altro personaggio attualmente ignoto, quando scoprirà cosa è accaduto si arrabbierà. Pertanto potrebbe essere ipotizzabile che Stefania possa scoprire quanto successo e rimanere turbata per la rottura dell'equilibrio familiare. Insomma, secondo una teoria, quindi non in base alle anticipazioni ufficiali di quel che andrà in onda, sarebbe ipotizzabile che Stefania, finora intenzionata a trasferirsi a Washington col fidanzato Marco di Sant'Erasmo, possa arrivare a cambiare idea, preferendo rimanere a Milano, per stare accanto ai suoi familiari, in un momento molto delicato.